Musica Musica sensibilità di Piavara ciascuno in mezzo fa passato quello sullo spetta eccolo servito anticipo si salva ancora Milanetto quasi zona tiro ecco il taglio che arriva di Rossi rava di rigore Rossi controlla Marco Rossi primo 1-0 e anche Rossi andone rimane in giro Ziegler calcio di rigore Rossi palladino è una notte buissima adesso per la SAC è rosso diretto per il cacciatore